Siamo qui con Andrea Barron, Managing Director di MFS, al quale chiediamo, dopo un 2019 abbastanza entusiasmante sui mercati, come sarà questo 2020? Il 2019 è stato un anno record in effetti per quasi tutti i mercati. Abbiamo visto valutazioni decisamente elevate, questo perché i mercati anticipano anche un 2020 molto positivo, soprattutto dal punto di vista degli utili aziendali. Dal nostro punto di vista, osservando gli utili aziendali e le valutazioni americane che anticipano con una valutazione di 21 volte gli utili degli ultimi 12 mesi, ecco, forse dopo 11 anni di continua espansione economica non siamo pienamente d'accordo. Crediamo che sia molto molto in più importante, dagli ultimi dati anche presentati da parte delle aziende americane, un 40% delle aziende sono già in perdita. Crediamo che il 2020 vedrà un forte ritorno della gestione attiva, quella gestione attiva che sarà in grado di diversificare, prima di tutto, i portafogli dei clienti, ma soprattutto di cercare di escludere la parte più ciclica del mercato e quelle aziende, come si diceva prima, poc'anzi, appunto, che sono in perdita. Certo, allora, come siamo a margine di consulenza, no? Qualche consiglio da dare ai nostri consulenti finanziari anche in ottica di prodotti? Assolutamente, i consulenti finanziari ci conoscono da molti anni, sanno che siamo una società molto solida che principalmente riesce a contenere le perdite nelle fasi più volatili dei mercati. Da qui le nostre soluzioni sono già posizionate in modo molto difensivo, motivo per cui l'anno scorso, con gran parte delle nostre soluzioni, abbiamo sovraperformato i benchmark, ma in particolar modo perché abbiamo ridotto le perdite in mesi più volatili, come maggio ed agosto. Per quanto riguarda il 2020 e anche l'approccio per i prossimi anni, due soluzioni molto interessanti dal punto di vista equity. Una soluzione che permette una maggiore flessibilità in termini di cash. Un cash che è basato in dollari americani, che quindi al momento rende anche un poco più dell'1%. E questo cash potrà essere utilizzato quando i mercati incominceranno veramente una correzione. Quindi laddove l'investitore professionista dovrà incominciare a vendere o a svendere il proprio portafoglio, noi siamo quella controparte che potrà iniziare a comprare questi asset a prezzi decisamente inferiori. Per quanto riguarda invece, e qui forse anche per l'investitore italiano la parte più importante, quella dell'obbligazionario, la soluzione deve essere un portafoglio globale. Si è visto che i tassi in Europa, indipendentemente se si parla di tassi legati al mondo governativo o di corporate, sono i minimi storici. Offrono poco upside e probabilmente molto downside, anche se non riteniamo che i tassi di interesse risaliranno così in fretta. Però chiaramente c'è motivo e preoccupazione di diversificare il portafoglio. Un approccio globale che dà un'ampia flessibilità a livello settoriale e all'interno dei settori del posizionamento sulla curva dei tassi permette di diversificare da un classico portafoglio BTP. Indici globali come Global Aggregate hanno una bassissima correlazione e offrono una maggiore liquidità, ad esempio investendo nei mercati globali.